Piazza Sant'Anna è sempre più preda dei vandali. La notte scorsa i gnoti hanno imbrattato nuovamente una via al ridosso di Piazza Sant'Anna. Dopo gli episodi recenti che avevano visto rotto sfondare una parte del ingresso che dava sugli scavi archeologici, questa notte la situazione che abbiamo registrata è quella che state vedendo. Questa notte i vandali hanno imbrattato nuovamente i muri che danno su Piazza Sant'Anna. È possibile dire che è una piazza completamente ormai all'abbandono? Sì, da circa un anno il tempo in cui io sono arrivato qui è un degrado totale tutti i giorni a cominciare dalle rotture di vetri, scritte, spostamento di arredo urbano e quindi ogni giorno è sempre così. Non essendoci telecamere poi è facile compiere questi atti. L'unica telecamera che c'era era ridosso del varco e non funziona più? Ormai non funziona più. Voi nei giorni scorsi avete anche ricostituito il comitato, un comitato che si occuperà dei problemi di Piazza Sant'Anna? Allora stiamo cercando di costituirlo perché non è facile, c'era già un comitato preesistente che comprendeva anche un altro quartiere di terra e quindi stiamo cercando di ricostituirlo. Ci siamo riuniti qualche sera fa e adesso con nuovi incontri cerchiamo di riformarlo. Piazza Sant'Anna è morta, è morta, è morta. Come lei vede, guarda un po'. Questa è. È da prendere il servizio là dietro, vedi per terra quanta siringhi ci stanno e quanta roba ci sta per terra. Ma come mai Piazza Sant'Anna è arrivata ad essere un posto così degradato? Perché non frequentano nessuno. Ma sarà colpa del comune? Sicuramente di sì perché se il comune aveva un buon senso, tante volte la domenica vengono tantissimi stranieri, lì sta chiuso, nessuno può vedere. Gli scavi? Gli scavi, non ci sta nessuno. Come facciamo? E quindi è colpa del comune? È colpa del comune che non frega niente. Una volta ci stava un po' più di interesse perché c'è stato il presidente che stava qua, allora capisci? Presidente Chiodi? Eh, non c'è più, allora la piazza è morta. Ma voi siete andati a dire queste cose al sindaco Brucchi? Ma noi ci siamo andati e come? No, però da quando hanno rotti i vetri lì? All'inizio che hanno rotti i vetri hanno messo le guardie. Ci accompagna a vedere questi vetri? Stanno lì, guarda un po', ci stanno i pannelli, guarda un po'. Andiamo a vedere, guarda un po'. Perché si vedono, no i vetri non li hanno sostituiti per niente, ci hanno messo i pannelli avanti. Guarda un po', ci hanno messo due cavalletti e i pannelli di legno e i vetri quando li mettono? Tranquillamente ci piove, ci piove dentro, si rovina tutto, no? È più di un mese che stanno così. Pentito di aver aperto un negozio tanto bello proprio qui, nel cuore di Teramo, in piazza Sant'Anna? Allora, pentito no, pentito no. Però, ecco, se l'avessi saputo prima che la situazione era così nella piazza, che era completamente morta, oserei dire oggi, forse avrei aperto da un'altra parte, sì. Come si vive a piazza Sant'Anna da commerciante? Piazza Sant'Anna da commerciante è completamente vuota, completamente vuota, non c'è giro di persone, ci sono rimasto malissimo nel periodo di Natale, cosa che avevo anche fatto presente all'amministrazione della politica qui a Teramo, che si era organizzato ovunque qualcosa, magari il mercatino di Natale, piazza Sant'Anna, completamente vuota, nemmeno le luminarie, niente. Cioè, come se non esistesse, in pratica, una piazza tra l'altro così storica di Teramo.